Eccola qui Speranza, questo è il nome dato dai volontari alla cagnolina colpita con una zappa e poi sepolta viva in un appezzamento di terreno nei pressi di piazza Autonomia a Torre Nova. Sono bastate 48 ore ai carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello per chiudere il cerchio attorno alla terribile vicenda. Le indagini condotte dal luogotenente della stazione di Sant'Agata Militello, Filippo Battaglia e coordinate dal comandante della compagnia, il maggiore Marco Prosperi, hanno permesso di ricostruire l'ennesima storia di spiegabile crudeltà verso un animale. La cagnolina, di proprietà di un ultraottantenne torrenovese, domenica scorsa, intorno alle 10.45, è stata condotta dal suo padrone nel campo e colpita violentemente. È stata salvata grazie all'intervento di Francesca e Stefani Crisafulli e dei loro familiari, che abitano nella zona, che uditi i guaiti disperati del cane sono intervenuti. Il padre delle giovani, appartenente alle forze dell'ordine, è riuscito a sentire il respiro affannoso dell'animale, identificando il punto dove era stato sotterrato e ad intravederne la zampetta che usciva dal terreno. Il fidanzato di Stefani, Vincenzo Bisignano, l'ha rianimata. Alla base della violenza ci sarebbero futili motivi. Il suo ormai ex padrone è stato denunciato per maltrattamenti di animali. La cagnolina sta bene, questa è la cosa più importante. Una violenza inaudita che abbiamo condannato sin dal primo momento. Il comune si costituirà parte civile. Desidero ringraziare in questa drammatica vicenda i ragazzi che l'hanno salvata, quindi Stefani e Francesca Crisafulli e il ragazzo di Stefani che sono stati determinanti per salvare la cagnolina. Voglio anche ringraziare la compagnia dei carabineri di Sant'Ada di Militello, che sin dal primo minuto, prima che io presentassi denuncia, avevano già iniziato tutte le indagini in maniera serrata. La speranza è che la cucciola sta bene, sia fuori pericolo e che venga adottata la prima possibile in una casa dove riceverà tante coccole e non bastonate. Io spero che tutto ciò porti insegnamento alle persone. C'è una signora che è interessata all'adozione di questa canuzza, perciò è una cosa bella. Abbiamo fatto le prime cure, sta un pochettino meglio, adesso dobbiamo fare la sterilizzazione, microchip, vaccini e quant'altro.